La famiglia arriva davanti con la macchina in pizzeria. Siccome non c'è a posto, il papà va a paccheggiare la macchina, mette tutti gli alti, andano e se dedicano alla pizzeria. Quando il papà arriva, la famiglia entra in pizzeria. Un cameriere li accoglie e domanda in quanti sono. La mamma risponde siamo in cinque. Il cameriere chiede se la famiglia vuole appendere le giacche e le guai da robare. Tutti si levano le giacche e le appendono. Il cameriere invita la famiglia a scedersi e fai scelgere il tavolo tra i due grandi iberi. Il cameriere porta le liste per ordinare. Tutti guardano la lista e decidero cosa ordinare. Mentre il cameriere torna e raccoglie le ordinazioni con il palmare. Il pezzaiolo e la barista facevano le ordinazioni. E contemporaneamente preparano le varie cose ordinate. Quando le bibite sono pronte, un cameriere le porta al tavolo. Mentre... I pezzaioli preparano le pizze. I pezzaioli che hanno preparato le pizze chiamano il cameriere e le porta al tavolo. Tutti mangiano e bevono leggermente. Finito di mangiare, arrivano i camerieri a stare i cari e chiedono se qualcuno vuole qualcos'altro. La mamma ordina per i bambini una cioccolata calda e per i grandi un caffè. Il cameriere porta il caffè. Mentre... Il cameriere porta le tue cioccolate. Il papà chiede il conto al cameriere che va alla cassa a prepararlo. Il cameriere porta il conto al papà che paga con soldi contanti. Il cameriere porta i soldi alla cassa e riporta il resto al papà. La famiglia si alza dal tavolo e tutti salutano i pezzaioli. Tutti vanno a riprendere le giacche e... Salutando escono dalla pizzeria. I camerieri li salutano. La famiglia va a prendere la macchina. Tutti tornano a casa felici e contenti.